Ciao a tutti, come le figure genitoriali influenzano le scelte d'amore? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, le nostre scelte d'amore sono spesso, molto spesso, frutto di un imprinting. Un imprinting che è dato dalle emozioni compresse all'interno della famiglia d'origine. Quindi padre e madre rappresentano, oltre alle figure genitoriali, rappresentano anche un modello comportamentale maschile e femminile. Quindi osservare come papà si comporta con mamma e mamma si comporta con papà dà un modello comportamentale. Questo modello comportamentale, diciamo, può essere di varia natura, ma comunque rappresenta spesso dei blocchi, diciamo così, da un punto di vista emotivo, delle emozioni compresse, delle sofferenze. Perché comunque un figlio si vede, diciamo, talvolta si pone a giudice dei comportamenti, talvolta vive delle sofferenze per i comportamenti, talvolta vede delle mancanze in questi comportamenti. E questo cosa significa? Che queste mancanze, a livello logico, teme di poterle incontrare nella persona di cui si innamorerà. Cioè, si teme, a livello inconsapevole, di avere, di incontrare una persona con gli stessi difetti o vizi comportamentali del genitore di sesso opposto. Questa paura, diciamo così, è una paura che si manifesta anche a livello logico e razionale. Cioè, noi non lo colleghiamo poi al nostro genitore, ma diciamo, io per dire, una donna potrebbe dire, no, io non voglio assolutamente un uomo libertino. Perché magari nel padre ha visto, per come il suo padre si comportava con sua madre, dei tratti di libertinaggio. E quindi vuole evitare questo. Però noi sappiamo che tutto ciò che ci fa paura, ci fa paura perché rappresenta un'emozione compressa. E tutto ciò che ci fa paura tende a realizzarsi, tende a manifestarsi per legge d'attrazione. Perché noi attraiamo, da un certo punto di vista, le nostre paure. Per cui hai avuto un padre assente e quindi temi di incontrare un padre. Hai avuto un padre, ma non magari neanche direttamente assente nei tuoi confronti, ma assente verso tua madre. E quindi temerai di incontrare un uomo con le stesse caratteristiche. Un uomo che si assente nei tuoi confronti. E guarda caso, succederà un fatto, un evento strano, un evento magico, per cui tutte le persone presenti, disponibili, non te ne innamorerai, non ti coinvolgerai. E andrai proprio quasi a fare una selezione, una selezione internazionale, diciamo, per cui andrai a coinvolgerti emotivamente, appunto, con invece tutte le persone che ti daranno assenza, che non saranno presenti, che saranno lontani da te. Ecco, questo è il modo in cui, diciamo, i vissuti, i genitoriali, tendono a influenzare le nostre scelte d'amore. E spesso portano, diciamo così, a scelte d'amore legate alla sofferenza. Si soffre perché si vivono queste situazioni. Come fare a superare, diciamo, questo impasse? Come fare a uscire fuori da questa situazione? Bene, il modo più semplice è quello di fare degli atti di coraggio. Cioè, quando incontri una persona che, a livello razionale, sai che non soddisfa quelle che sono le tue esigenze, devi allontanartene, deliberatamente e consapevolmente, in modo tale da mandare un segnale preciso alla tua parte emotiva che non sei più interessato a giocare questo gioco, che non sei più interessato o interessata a giocare questa partita. E evidentemente, da questo punto di vista, allora la tua parte emotiva inizierà a capire. Perché la parte emotiva non capisce le parole, ma capisce i simboli, capisce i comportamenti, capisce i modi di fare. E per questo motivo potrà allinearsi, potrà, diciamo, allontanarsi e potrà, diciamo, iniziare a raggiungere, come dire, una vetta più alta, una vetta più sicura. Inizierà a cambiare nutrimento, smetterà di nutrirsi, diciamo così, di emozioni negative e inizierà a nutrirsi di emozioni positive. Cioè, non si innamorerà più di un modello comportamentale, diciamo, che è stato rinnegato dai genitori. Cioè, quello che non volevi lo stai realizzando. Ma, facendo un atto di coraggio, inizierai a coinvolgerti invece in situazioni positive, in situazioni che ti daranno gioia, tranquillità, benessere, soddisfazione. Bisogna però, appunto, fare qualcosa, fare un atto di coraggio, perché altrimenti le cose da sole non capitano. Se non ci mettiamo energia, se non ci mettiamo forza, le cose da sole non accadono. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di tutti i posti, link in descrizione. Ciao a tutti.